Il 9 aprile abbiamo organizzato questo incontro con la Rete Nazionale contro la geotremia speculativa impinante e sabato 9 aprile siamo venuti a conoscenza di questo fatto gravissimo denunciato da un ex dirigente tecnico della regione toscana e subito abbiamo denunciato la cosa, ha preparato anche un atto regionale con interrogazione per chiedere conto di quanto denunciato e per verificare se è vero che l'Ares, l'Agenzia regionale della sanità in primo luogo ha poi emesso un parere negativo per la costruzione dell'impianto nell'amiata Magno E4 dell'Enel e successivamente dopo 15 giorni questo parere si è stato ribaltato comportando anche le dimissioni della Bramerini e lo spostamento del funzionario a un altro ufficio sempre del settore ambiente. Il punto qual è? Che noi denunciamo questo, cioè che se, e quindi facciamo appello anche alla procura perché indaghi su questo accerti quanto denunciato, se quanto denunciato emerge, ne emerge una verità, quindi è stato detto vero, assolutamente chiediamo le dimissioni di Cipriani dell'Agenzia regionale della sanità e anche le dimissioni di Rossi perché se fosse vero per l'ennesima volta assisteremo a un'ingerenza della politica nelle valutazioni tecniche degli uffici e questo sta diventando inaccettabile, abbiamo visto qualche giorno fa dell'ingerenza del Presidente Rossi nella valutazione di impatto ambientale dell'aeroporto di Firenze negli uffici tecnici di Roma e abbiamo cercato di mantenere un rispetto istituzionale per approfondire la questione, ma se anche questa vicenda fosse confermata noi chiederemo assolutamente la testa di Rossi, perché è inaccettabile che un Presidente interferisca con degli uffici tecnici regionali che sono a garanzia in un luogo dei cittadini e che in base ai loro pareri la politica dovrebbe dettare e indirizzare la propria azione o eventualmente ritirare la propria azione perché potremmo assistere, così come è successo in passato, a un parere negativo che dovrebbe far rivedere alcuni progetti e alcune pianificazioni.